Un saluto a tutti! Oggi vi porto in anteprima la puntata che va in onda il 20 maggio. Zuleya, dopo aver sentito le parole di Demir, scioccata e senza parole, si ritira nella sua stanza. Non riesce a credere a quello che appena ha sentito e chiama immediatamente Ilmas, chiedendo di incontrarlo nel loro nascondiglio nella foresta. Moshgan sente la conversazione e chiede chi era al telefono. Ilmas gli dice che era Chetin e ha bisogno di incontrarlo in azienda. Tuttavia, Moshgan non riesce a scollarsi di dosso uno strano sospetto. Se non l'hai già fatto, ti chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e di iscriverti al canale. Grazie di cuore se lo farai. Zuleya ed Ilmas si incontrano e Ilmas le chiede cosa si è successo. Con le lacrime agli occhi, Zuleya chiede se è stato lui a uccidere Erkument. Ilmas le tiene delicatamente il viso e dice che le dirà tutto, prendendole la mano. Non lo sanno, ma Moshgan è lì, li segue e sta registrando tutto. Ilmas confessa che è vero, ha ucciso Erkument perché stava aggredendo Gulten. Purtroppo Ilmas non è riuscito a fermarlo in tempo. Zuleya, stento, riesce a freddere le sue parole. Ma Ilmas aggiunge che fortunatamente Chetin è ora al fianco di Gulten. Zuleya chiede se Chetin conosce la verità e Ilmas risponde di sì perché Gulten è stata praticamente costretta a dirglielo. Tuttavia non c'è più bisogno di preoccuparsi perché tutto è finito. Con le lacrime che le scorrono sul viso, Zuleya abbraccia Ilmas. In mezzo a tutto questo, Moshgan rimane nascosta e sconvolta, continuando a registrarli con la sua videocamera. Nel frattempo, Zuleya chiede a Ilmas se Demir sa della situazione e Ilmas le dice di sì. Lui, Unkar, suo padre e tutti gli altri lo sanno, ma hanno dovuto tenere nascosto per evitare il disonore a Fukurova. Questo non solo per ciò che è successo a Gulten, ma anche perché Unkar non avrebbe permesso a nessuno in città di discutere che sua nipote aveva aggredito una ragazza che lavorava per la famiglia Yaman. Zuleya chiede se Ilmas avesse difeso Gulten e lui lo conferma, aggiungendo che è ancora vivo grazie a lei. Moshgan nel frattempo si allontana, piangendo e lasciando cadere la sciarpa a terra. Allo stesso tempo, Zuleya e Ilmas continuano la loro conversazione e Zuleya è preoccupata che Demir riferisca l'incidente al procuratore. Tuttavia, Ilmas dice che non lo farà perché allora sarebbero tutti complici. Zuleya ammette di essere spaventata, ma Ilmas la rassicura che Demir non lo farà, altrimenti anche lui e Unkar cadrebbero insieme. Decidono di tornare indietro per non destare sospetti a causa della sua assenza e lui la lascia partire per prima, salutandosi a vicenda. Ilmas sulla via del ritorno nota una sciarpa a terra e capisce subito che appartiene a Moshgan. Nel frattempo, la dottoressa, ancora con le lacrime agli occhi e la telecamera in mano, ripesa quello che ha visto e mentre è a passeggio si rende conto di aver perso la sua sciarpa ed è preoccupata. Ilmas in un secondo momento andrà da Fecheli e subito il padre gli chiede cosa è successo. Ilmas gli dice che è tornata fuori la storia di Ergumente e che Demir ha intenzione di dire la verità sul suo conto. Fecheli gli chiede chi glielo ha detto e lui dice che si è visto con Zuleya e gli ha raccontato di aver sentito Demir e Unkar parlarne. Fecheli gli chiede conferma di quello che gli ha detto e Ilmas gli aggiunge che Zuleya è molto agitata e preoccupata per la situazione e lui ha provato a calmarla. Fecheli gli dice che è normale tutto ciò ed Ilmas dice che si possono aspettare di tutto da Demir perché se Zuleya insiste tanto lui dirà la verità e chiede con il padre cosa faranno. Ma Fecheli gli dice che non faranno niente perché lui non ha prova per incolparlo e quindi si deve sperare per il meglio. Nel frattempo Zuleya è in un negozio e come esce sbatte contro Musgan e la donna vedendo Zuleya scossa gli chiede se ci è successo qualcosa, soprattutto perché spesso la polizia va a suonare a casa loro. Ma Zuleya gli dice che sono tanti i problemi che si sono creati e Musgan gli dà ragione, ma soprattutto aggiunge che lei riesce a privare la pace che la circonda e le due rimangono immobili a guardarsi. Quando Zuleya torna alla villa è molto scossa e Duncar vedendola non tampisce cosa le succeda, ma la ragazza dice che vuole andare a trovare sua figlia. Zuleya inizia a piangere e ripensa quando stava anche lei per passare quello che ha successo a Gulten ed Ilmas è arrivato in tempo per salvarla. In un secondo momento vedremo Fecheli che torna a casa dove trova Beice. I due iniziano a parlare e poco dopo Beice, vedendolo pensieroso, gli chiede cosa c'è che non va. Fecheli le dice che deve chiedere una cosa. Le chiede dove ha sentito le voci che giravano su Erkument, il nipote degli Yaman. Beice gli risponde che l'ha sentito dalle donne dell'associazione e gli chiede in più perché glielo sta chiedendo. Fecheli le dice perché Juley ha chiamato Demir a testimoniare. Beice le dice che potrebbe essere che ci sia qualcosa e hanno bisogno di indagare. Fecheli le dice che sicuro ci sa qualcosa ma perché dopo così tanto tempo è tornata fuori questa storia. Beice gli risponde che sicuro è perché sanno qualcosa. Nel frattempo vedremo Musgan e Ilmas a casa. Musgan chiede al ragazzo se per caso ha visto la sua sciarpa perché non riesce a trovarla. Ilmas gli chiede se si ricorda per caso dove l'ha usata l'ultima volta. E la donna dice che non si ricorda ma molto probabilmente l'ha dimenticata in ospedale. Poi la donna va a sedersi vicino ad Ilmas e gli dice che vuole che suo figlio sia il bambino più felice del mondo. Ed il ragazzo gli dice che sarà così. Poi le chiede se oggi è stata dal dottore e di cosa hanno parlato. La In dice di sì e si sente meglio dopo avergli parlato anche di quello che ha passato con Kerem. Ed in più gli dice che però ha paura di perdere la famiglia, la felicità ma soprattutto ha paura di perdere lui. Ma Ilmas gli dice che non deve averne anche perché non ce n'è motivo, perché lui sta facendo di tutto per migliorare. Musgan gli risponde che ha ragione e presto si sentirà meglio e di non preoccuparsi, aggiungendogli che il medico gli ha prescritto un sedativo e sicuro questo l'aiuterà. In un secondo momento vedremo Atip che torna in prigione da Eup. L'uomo è molto arrabbiato perché Atip non gli ha ancora dato quello che gli ha promesso. Lui è finito in carcere, ha venduto la sua vita e non può più aspettare i suoi comodi. E aggiunge che se non può più dargli quei soldi, lui dirà tutto a Ilmas. Ma Atip gli dice che glieli darà. Ed Eup furioso si alza e gli dice che gli darà ancora un giorno di tempo, se no dirà la verità e chiude lì il discorso. Atip è molto preoccupato. Alla sera vedremo Ilmas e Musgan in pensiero. La ragazza, piangendo, ripensa a quello che ha visto fra Ilmas e Zuleia. E intanto Ilmas e Zuleia ripensano alla braccia il momento difficile passato insieme. Il giorno seguente vedremo Julide che consegna al pubblico ministero il fascicolo della morte di Ciencavier, dicendogli che l'assassino si è costituito e quindi il caso è chiuso. Poi gli consegna quello di Ercumet, dicendogli però che per quello non ci sono progressi e ha già preso la dichiarazione di Demir. Ma il pubblico ministero gli dice che tutta Adana sta parlando di questo omicidio, quindi è da risolvere il prima possibile perché è un caso delicato. Julide chiede spiegazioni. L'uomo gli dice perché Ercumetterà il nipote di Unkar, la madre di Demir. E il ragazzo avrebbe violentato sua moglie. Julide non crede alle sue parole. L'uomo a questo punto gli dice che non sanno se è la verità, ma le voci girano in quella direzione e loro devono scoprirlo, perché a cui si capirebbe perché è stato ucciso. Quindi Julide, riflettendo, dice che questo spiega perché gli ama non hanno mai denunciato la morte e se queste ipotesi sono vere devono indagare. Così decide di riaprire il caso. Nel frattempo vedremo Ilmaz che viene chiamato da Ejup che ha bisogno di parlargli. Ma intanto Ejup in prigione viene pugnalato e il suo assassino come ultime parole dice che Atip gli manda i suoi più cari saluti. Una volta arrivato, Ilmaz gli viene detto che l'incontro è stato annullato perché Ejup è stato pugnalato. Ilmaz non ci può credere, subito chiamano un'ambulanza. Corre in ospedale ed è convinto che Demir c'entri qualcosa. Ilmaz prova comunque a chiedergli che ha ucciso Cenkavier, ma purtroppo l'uomo non è riuscito a dirglielo e muore pochissimo dopo. Le anticipazioni finiscono qui. Se il video è stato di tuo gradimento, lascia un mi piace ed iscriviti al canale così non perderai le prossime anticipazioni di Terramara. Grazie di cuore e ciao!